Il turismo a Roma è un'altra delle cose che è stata cambiata dal Covid-19. Questo però ha portato alla riscoperta di bellezze vicine ma poco frequentate. La Piantica eravamo abituati a gruppi di turisti e poi oggi vediamo che è un'altra realtà perché non ci sono più questi turisti, non sono potuti più venire, però c'è tanta gente che ha scoperto il Parco della Piantica e soprattutto i romani. Moltissime persone hanno scoperto che cos'è un polmone verde per la città di Roma, un luogo dove veramente si è lontani dalla città e dentro la città. Il Parco della Piantica si sviluppa lungo 16 chilometri. Quest'area si può percorrere facilmente con le nostre biciclette, diciamo sia muscolari che elettriche, in un paio d'ore per fare una visita molto rilassata oppure dedicare più tempo alle diverse soste, diversi monumenti e ci si può spendere anche l'intera giornata. Il Parco ha però, come il resto della città, un problema, la gestione del traffico, anche se qui la soluzione ci sarebbe, ma solo sulla carta. La Piantica nel suo tratto più vicino alla città viene utilizzata giornalmente dai romani come un'alternativa per raggiungere il centro della città. È impossibile da gestire questa situazione eppure la soluzione c'è. È stata già trovata e individuata con l'amministrazione comunale già nel 2016, ma ancora non si è realizzato. Dalle mura a Aureliane siamo arrivati in zona aeroporto di Ciampino e ora prima che Giove Pluvio ponga termine a questa passeggiata, andiamo a vedere come sta la vigna. In agricoltura biologica un buon servizio meteo ha un'importanza fondamentale perché noi facciamo pochi trattamenti e se non abbiamo una buona previsione meteo non sappiamo nemmeno prevedere quando fare il trattamento. È fondamentale perciò che io sappia quando sta per piovere perché se faccio il trattamento e dopo un'ora piove il trattamento sarà inutile. La potatura verde è un insieme di operazioni volta a gestire la chioma della vite quindi si tolgono tutti i germogli inutili che vanno a sottrarre nutrimento ai grappoli e poi se ci sono troppi grappoli si diraderanno anche quelli cioè si staccheranno i grappoli in più per avere una produzione di maggiore qualità. E qui come nel resto dell'Italia questo turismo di prossimità sostiene l'economia locale e ci permette di riscoprire una tradizione rurale che assieme alla nostra storia e ai prodotti della terra sono parte della nostra cultura. Grazie Grazie Grazie